Avevano razziato bagagli in aeroporto a Firenze e a Bologna, poi si erano dati alla fuga in A1 ma sono stati bloccati ed arrestati a battifolle vicino al casello autostradale di Arezzo dalla polizia stradale. In manette sono così finiti quattro sudamericani, due cittadini cubani e due peruviani di cui una donna, dei veri e propri professionisti di furti ai danni di ignari turisti in vacanze in Italia, ai quali avevano sottratto borse, valigie e quant'altro. Tutto era partito dalla segnalazione di alcuni furti consumati nei due aeroporti e della fuga dei quattro malviventi verso Roma. A quel punto dalla centrale era così partito l'ordine per tre pattuglie della sottosezione di battifolle di attuare il dispositivo a reticolo per bloccare l'auto utilizzata dai malviventi per dileguarsi. La polizia è così riuscita a bloccare i quattro all'interno della loro auto dove sono stati ritrovati zaini, valigie e borse. I malviventi arrestati dalla stradale per furto sono adesso a disposizione della procura retina. La donna, incinta, è stata invece lasciata a piede libero. Sempre la polizia stradale di battifolle ha inoltre arrestato lungo la 1 un 27enne che nel corso di un controllo aveva mostrato agli agenti dei documenti falsi. L'uomo aveva infatti un conto in sospeso con la giustizia per una condanna a sei mesi di reclusione per il furto di un cellulare commesso nel 2006 ai danni di un turista danese. Il giovane ormai forse credeva di averla fatta franca ma si è dovuto ricredere, non appena varcata, la soglia del carcere. La postrada, infine, lo ha pure segnalato per uso di documenti falsi.